Il 15 febbraio si avvicina, questa era la data dell'accordo con il governo, il cronoprogramma viene rispettato, ci sarà effettivamente il 15 la firma? Noi siamo vicinissimi alla chiusura dell'accordo, sono stato l'altro giorno con il ministro Barretta al MEF, abbiamo avuto un lunghissimo incontro col ministro Franco, non so se sarà proprio il 15 ma comunque nei prossimi giorni ci sarà la chiusura dell'accordo.